buona avvocato ma guarda che sorprende che stai a fare qua sto a fare qua io ci vivo qui si è la grande aria pura bello sci è sempre stato lo sport preferito e lei che sta a fare qua la settimana bianca e mia moglie non mi dite che è stato in albergo si questo albergo qua no e dai mi fai un colpo di telefono maresciolo e vi ospitavo a casa mia la casa c'è qua sto vivo qui via remogna numero 5 a saperlo e io stasera venite a casa però va bene stasera vi voglio a casa facciamo una cenetta via remogna numero 5 come arrivi a stare il cancello col ginocchio e si apre il cancello poi arrivate vicino al citofono che è grosso il pulsante col gomito e suona perché devo usare il ginocchio e il gomito marescia non penso che mi da mani vuote scusi con ex cioè il discorso ma ehi forse qualche cosa è mangiato ciao ehi tutto economico eh ecco